Questo tesoro sono le mie donne Quella è la Gina, quella è la Pina E quella è la mia preferita La Cagna Mobile Allora facciamo un giro E questo chi è? È il mio terapeuta, è il mio terapeuta Dove andiamo terapeuta? Andiamo a puttane, muoviti, cioè non è che possiamo stare qua Bene, che comunque costano meno di te E tu invece tesoro, sai dove vai? Dai vai a fanculo, andiamo muoviti dai, cazzo dai Esattamente